voci vicine si ci chiamiamo proprio così voci vicine siamo al nostro primo incontro e ci stiamo annusando ci stiamo sperimentando ci stiamo testando battiti di mani battiti di piedi improvvisazioni vocali il pianoforte le vocali e le consonanti le risate i respiri la postura questo è molto di più tutto in due ore ognuno prende una sola nota quindi per esempio le proviamo tutti insieme tutte le note insieme guardateci direste mai che è la prima volta che ci incontriamo e che cantiamo insieme e Grazie a tutti. Grazie a tutti.